Sicurezza urbana a Capaccio Pestum, fondi ministeriali per il progetto candidato a finanziamento dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri, volto alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per il controllo dei principali accessi stradali alla città dei Templi. In graduatoria è anche il primo tra quelli presentati da comuni salernitani. Il progetto, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, sarà realizzato a fronte di una spesa complessiva di circa 236 mila euro. Il comune cofinanzierà l'intervento con 150 mila euro, mentre il ministero parteciperà con circa 86 mila 500 euro di fondi erogati nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, a valere sulle risorse finanziarie fissate in 27 milioni di euro per l'anno 2021, di cui oltre 12 milioni destinati ai comuni del Mezzogiorno. Obiettivo dell'intervento messo in campo dall'amministrazione su input del consigliere comunale delegato alla sicurezza Pasquale Accarino è concretizzare una serie di azioni efficaci e deterrenti finalizzate alla prevenzione, controllo e vigilanza del territorio comunale, al fine di contrastare i fenomeni di criminalità diffuse predatoria, devianza e degrado urbano. La pianificazione, approntata dal comune di Capazzo Pestum, ha ottenuto il 96esimo posto in graduatoria, con un'incidenza della criminalità sul territorio comunale che risulta elevatissima. Dieci in tutto le postazioni di videosorveglianza individuate nell'ambito della pianificazione approntata dall'ente civico su altrettante zone del territorio. Le telecamere brandeggianti di ultima generazione collegate a H24 con le forze dell'ordine, dotate di sofisticati sistemi di rilevazione delle targhe dei veicoli, saranno installate lungo la strada provinciale 13, nei pressi della caserma dei Carabinieri a Capaccio Capoluogo, sulla strada provinciale 137 che conduce a Giungano, lungo la statale 18 al Bivio Mattine e ai varchi delle località Spinazzo, Ponte Barizzo, Focesele, Gromola, Vuccolo, Maiorano, Scigliati e nei pressi del Solofrone. Siamo molto soddisfatti, si tratta di un primo importante step e si è data priorità alle aree di accesso e uscita dal territorio comunale, ha evidenziato il consigliere Accarino. Nel prossimo futuro ulteriori videocamere potranno essere installate in altre zone della città, nei punti più sensibili del territorio. Nella nostra provincia fondi anche ai comuni di Salerno, Vietri sul mare, Ottati, San Giovanni Appiro, Torre Orsaia, Monte Corvino Rovella e Romagnano al Monte, che beneficeranno dei contributi ministeriali erogati fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie previste, assegnati in tutto a 416 comuni italiani. Restano esclusi dunque i progetti presentati dal comune di Roccadaspide, Agropoli, Albanella, Battipaglia ed Eboli.